Dieci paia se sarò io a infilagliere. Stia attento alla strada. Sono un bravo ragazzo, sa. La prossima settimana vado a Parigi. Se la interessa... Non mi interessa. Accidenti, perché si è fermata? Scommetto che c'è un posticino incantevole. Non lo sa. Sarà meglio che dia un'occhiata al carburatore. Proprio un cretino simile dovevo incontrare. Ehi! Ehi, ferma! Ferma! Ehi!